Ciccio Tavano rompe il silenzio e fa chiarezza sul suo immediato futuro, atteso da una scelta difficile, una scelta di vita. In questo momento particolare della mia carriera, si legge in una nota diffusa, ho ricevuto una proposta per la quale ringrazio i dirigenti dell'Avellino. Ma ho chiesto tempo per decidere, perché devo scegliere fra una nuova opportunità con nuovi stimoli oppure una scelta di cuore, quella di rimanere ad Empoli. Una decisione che certo non si prende in due giorni. Ci tengo però a precisare, continua Tavano, che le decisioni riguardo la mia professione le prendo io e non mia moglie. Il riferimento è alle parole del presidente Taccone, che nei giorni scorsi aveva parlato della volontà prevalente della consorte di Tavano di rimanere in Toscana. In ogni caso, se Tavano saltasse, l'alternativa è l'ex lanciano Monachello, talento di proprietà del Monaco. Ci sono affari solo da ufficializzare, Gaillardini, Insigne, Ligi e Chiosa, e altri da concretizzare, da sviluppare. In cima alla lista dei desideri di Tesser per la mediana c'è Valerio Verre, che ha dato il proprio placet alla cessione in Irpinia dall'Udinese dopo la parentesi al Perugia, ma che resta alla finestra per eventuali prioritarie offerte dalla Serie A. In alternativa, l'Avellino sarebbe pronto a lanciare l'assalto a Davide Gavazzi, 31enne di proprietà della Sampdoria, pupillo di Tessera ai tempi della Ternana. Intanto, settimana prossima, continuerà il tour del presidente Taccone tra i club dei tifosi in provincia. Lunedì 6 luglio alle 18, il presidente sarà a Venticano, al Parco Hotel Lincanto, per poi trasferirsi alle 19.30 al club Zamorano di Sperone, dove ad accogliere il presidente ci saranno tutti i tifosi del mandamento. Martedì 7 luglio alle 18.30 il patron Bianco Verde incontrerà invece i tifosi della Valle Caudina, a Cervinara, nella sala consigliare del municipio. E giovedì 9 luglio, sempre alle 18.30, il massimo dirigente Bianco Verde sarà ospite alla nuova caffetteria del Parco a Lioni.